Ciao belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Oggi ci sono un po' di novità, innanzitutto ho fatto la barba quindi ho 25 anni in meno. E seconda cosa non ci saranno le candele nello sfondo perché ci sono tipo 80 gradi, ma tralasciando tutte queste cose vi anticipo che il video di oggi parlerà di una famiglia di cui non parla mai nessuno, ma che secondo me merita davvero di essere conosciuta. La sua storia è davvero macabra, quindi se siete pronti, cominciamo. Come al solito su Pampling trovate le magliette che indosso nei video e mettendo il codice sconto Andrew avrete anche delle calze. In omaggio. Iniziamo davvero. All'inizio del 1950, Harold Alexander era un giovane operaio che lavorava il marmo, viveva ad Hamburgo in Germania e proprio qui un giorno incontrò un anziano signore di nome George. Questo signore era a capo di un piccolo gruppo religioso chiamato Lord Burst Society. Ultimamente stiamo parlando un po' troppo di gruppi religiosi. Il gruppo era radicato alla fede cristiana, ma le loro opinioni erano molto più estreme rispetto alla media. Per esempio, molti cristiani credono nel concetto di abnegazione, che per chi non lo sapesse è la pratica spirituale di rinuncia a far prevalere i piaceri per motivi superiori. Ma George e gli altri membri hanno portato questo concetto all'estremo. Nessuno nel gruppo poteva avere una vita propria. Dovevano passare quasi tutto il loro tempo a pregare. Pensavano che chiunque fosse al di fuori del loro gruppo fosse una persona malvagia. E già qui capite il tipo di situazioni che possono crearsi. Non si sa bene come sia andata, ma non appena Harold incontrò George, come succede spesso in questi casi, viene trascinato dal suo carisma e diventano subito molto amici. Decide così, insieme a sua moglie e Dragma, di unirsi al gruppo. Fin da subito i due si dedicarono completamente a questo culto. Dopo qualche mese dal loro arrivo, però, il loro leader George si ammalò gravemente. E a quel punto era chiaro che di lì a poco sarebbe morto. Un giorno Harold lo andò a trovare. E dopo aver passato un po' di tempo in una stanza a parlare con lui, uscì e disse a sua moglie che George gli aveva detto che lui sarebbe stato il suo successore. Quindi una volta che George sarebbe morto, Harold avrebbe preso il suo posto. Erano tutti d'accordo nella società e il giorno in cui il vecchio leader morì, tutti iniziarono a seguire Harold, ciecamente. Negli anni successivi, in cui Harold era capo della Lord's Society, iniziò ad introdurre un nuovo concetto fondamentale ai membri. Dovevano tenersi pronti per quando il prossimo profeta di Dio sarebbe tornato sulla terra. E quando sarebbe arrivato avrebbero inoltre dovuto fare qualsiasi cosa che lui gli avrebbe detto. Lo so, sembra che non abbia senso, però, ascoltate. Nel 1953, infatti, circa un anno o due dopo che Harold era diventato il leader, lui e sua moglie Drogma diedero alla luce il loro secondo figlio. Era il loro primo maschio e lo chiamarono Frank. Subito appena nato, Harold lo guardò e disse che sentiva che lui era sicuramente il profeta che tutti stavano aspettando. Lo comunicò agli altri membri e gli credettero tutti immediatamente, senza farsi neanche mezza domanda. Il tempo comunque passò e Frank iniziava a crescere. Era da sempre stato immerso in questo ambiente, in cui tutti lo adoravano e lo servivano. Questo ha portato un profondo impatto sul suo modo di pensare e comportarsi. Credeva lui stesso di essere il profeta di Dio e usava la sua autorità per comandare a bacchetta le persone, specialmente le sue tre sorelle e sua madre. Quando Frank compì all'incirca 16 anni, cominciò come ogni adolescente ad interessarsi alla sessualità. Era in conflitto perché fin da piccolo gli era stato insegnato che tutti al di fuori della loro società erano malvagi e quindi non avrebbe voluto inquinare se stesso, tra virgolette. Frank andò così da suo padre e gli disse che avrebbe voluto avere dei rapporti con sua madre e le sue sorelle, così da rimanere puro. E ragazzi, tenetevi forte. Il padre non solo acconsentì, ma lo incoraggiò e spesso si univa anche lui a queste feste. Cioè, ok, non fa ridere. Comunque, le sorelle erano state indottrinate a tal punto che acconsentivano a questi rapporti. Non erano forzati o violenti. Tanto che una delle sorelle racconterà a scuola ad alcuni suoi amici di come fosse gelosa di una delle sorelle perché Frank dedicava più attenzione a lei. Giustamente, i suoi amici sconvolti cominciarono a parlarne tra di loro e la voce arrivò anche ad alcuni genitori, che avvisarono subito la polizia di queste relazioni incestuose. Harold in qualche modo scoprì che la polizia stava indagando su di lui e anche nella Lord Society la voce aveva cominciato a circolare. Così, la stessa Lord Society cominciò a prendere le distanze da Harold e la sua famiglia. Harold però, prima che scoppiasse il caos, decise di ritirarsi e di lasciare Hamburgo per fuggire. Si trasferirono quindi a Santa Cruz, una città nelle isole Canarie in Spagna. Erano andati a vivere in un piccolo appartamento e la famiglia, anche qui, continuò ad adorare il figlio Frank, che per loro rimaneva un vero profeta. Passarono altri anni E il 22 dicembre del 1970, un ricco dottore di nome Walter Trantler era nella sua villa, non troppo distante dall'appartamento della famiglia Alexander. Quando sentì bussare alla sua porta, aprì e si trovò davanti due uomini che non conosceva. Erano ricoperti di fango dalla testa ai piedi. Per non essere maleducato, gli chiese di cosa avessero bisogno. I due dissero che erano venuti per parlare con Sabine, una delle tre sorelle, che lavorava come domestica nella sua casa. Il dottore quindi andò in cucina per chiamarla. I tre quindi cominciarono a parlare sulla porta d'entrata, quando ad un certo punto il dottore sentì che uno degli uomini disse una cosa terribile a Sabine, e quell'uomo era proprio Harold. Sabine comunque rimase tranquilla, prese la mano piena di fango del padre, la appoggiò sul suo viso e disse «Sono sicura che hai fatto ciò che era necessario». Il dottore, vedendo la reazione della figlia, rimase ancora più sconvolto. Corse spaventato in una stanza, dove si barricò e chiamò la polizia. Pochi minuti dopo arrivò la polizia, che vedendo i tre ancora sulla porta d'ingresso, chiese loro cosa stesse accadendo e perché li avessero chiamati. A quel punto, Harold, sempre in maniera molto pacata e calma davanti ai figli, ripete la stessa cosa che il dottore lo ha sentito dire a sua figlia, specificando dove fosse accaduta questa cosa terribile. I poliziotti lo arrestarono e portarono la famiglia al dipartimento di polizia. Vennero mandati immediatamente tre agenti a controllare il loro appartamento, per verificare che quello che gli aveva raccontato fosse vero. Ma che cosa gli aveva raccontato di così terribile a Harold? L'uomo sosteneva che il giorno prima, ovvero il 21 dicembre 1970, lui e il figlio Frank si trovavano a casa nel loro appartamento insieme alla madre Dragma e le altre due sorelle, Petra e Marina. Quel giorno, nel pomeriggio, lui e sua moglie si stavano riposando nella loro camera da letto. Frank, per qualche motivo, però, ad un certo punto entrò nella camera e si sedette sul bordo del letto fissando sua madre. La madre aveva ricambiato lo sguardo del figlio, ma in seguito lui dirà che quello sguardo non gli era stato permesso e tra poco capirete. In quell'esatto momento, quando la madre ricambiò lo sguardo, Frank sentì dentro di lui che era arrivato il momento di uccidla. Secondo Frank e Harold, le donne erano impure e l'unico modo per poterle fare entrare in paradiso era quello di sacrificarle. Questa cosa era risaputa all'interno della famiglia ed erano tutti d'accordo, con pesa Dragma. Tornando a quel momento, Frank quindi le comunicò che era arrivata la sua ora. Lei non disse nulla, anzi si girò a pancia in giù, mise le mani lungo i fianchi e non si mosse. Il padre, quasi felice per questa cosa, uscì dalla stanza e cominciò a suonare l'organo che aveva in casa. Le due figlie, che sentendo i rumori erano uscite dalle loro camere, videro il padre suonare l'organo e gli chiesero cosa stesse accadendo. Lui rispose che per loro sarebbe arrivato finalmente il momento di andare in paradiso. Le figlie non erano per nulla sconvolte, come la madre. Anzi, si si adettero in mezzo alla stanza per aspettare il loro turno, che purtroppo una volta che Frank aveva finito con la madre, arrivò anche per loro. Frank, non soddisfatto di ciò, andò in cucina, prese un coltello e muociò i tre corpi. Con quello che rimase, prese gli organi e li attaccò al muro. Non so descrivervi bene la scena. Finito di fare ciò, lui e il padre cominciarono a cantare e pregare estremamente orgogliosi di quello che avevano fatto. I poliziotti rimasero sconvolti, perché una volta entrati nell'appartamento, realizzarono che tutto quello che gli avevano raccontato era vero. I due rimasero quindi in prigione in attesa del processo. I psichiatri, però, stabilirono che Frank e Harold non erano mentalmente idonei a sostenere il processo, e vennero entrambi rinchiusi in un manicomio per criminali. Nessuno dei due, però, sembrò mostrare rimorso per quello che avevano fatto. Anzi, credevano ancora di aver fatto la cosa giusta, ed essere riusciti a farle andare in paradiso. Purtroppo, dopo quasi 20 anni di detenzione all'interno del manicomio, nel 1990 riuscirono a scappare. E ancora oggi nessuno è riuscito a trovarli, quindi ho un po' di paura a fare questo video in realtà. Che è che non sono una donna, ma non si sa mai. Ragazzi, questo è ciò che il fanatismo può portare a fare. In realtà questa storia è solo uno dei tantissimi esempi che abbiamo visto nella storia. Sono stati davvero tanti i culti che hanno convinto le persone a comportarsi e credere certe cose. Cose senza senso, senza valore. Eppure le credevano, ne erano convinti. E per colpa di queste cose, sono scomparse tantissime vite umane. Letteralmente. Se volete e vi interessa l'argomento, fatemelo sapere perché ci sono davvero tantissimi casi del genere che potrei raccontarvi. E alcuni sono anche decisamente più macabri e inquietanti. Vi butto giù due nomi, Heaven's Gate e Jonestown. Ma non vi dico altro per ora, quindi fatemi sapere se vorreste che io ne parlassi. E detto questo, spero che la storia di oggi vi sia piaciuta, anche se è una storia orribile ovviamente. Quindi spero comunque di avervi fatto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto. E come al solito vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!